La capillarità è un modo di trasmissione di un composto organico volatile attraverso i materiali che non siano quindi aria. Immaginiamo di mettere un mattone all'interno di una nostra parete e di capire come dal mattone un composto organico possa via via trasferirsi fino alla superficie più interna quindi alla superficie di una parete attraverso appunto un concetto di capillarità che è assimilabile al modo in cui il vaporacqueo passa attraverso un materiale poroso. Una volta che è passato attraverso tutti gli strati del muro ed è sulla superficie della nostra parete a quel punto per evaporazione possiamo inalarlo.